Inbiancare, quanti sforzi e quanta fatica pulire! Da oggi basta tinteggiare con i soliti metodi tradizionali, pennelli, rulli che gocciolano, sporcano in giro e prodotti come pistole a spruzzo elettriche che sprecono vernice non dando garanzie. Vi presentiamo Goisa System, l'innovativo sistema per tinteggiare la casa. Con Goisa System risparmierete tempo, denaro e fatica. Goisa System non è un comune rullo per tinteggiare, ma un sistema innovativo che risolverà le problematiche che rendono lunga e complicata la tinteggiatura della casa. Guardate le immagini. Vedete com'è semplice pitturare, senza sporcare e soprattutto senza faticare. E in più non dovrete più coprire pavimenti e mobili con teli e giornali. Pratico, veloce, non sgocciola, quindi non sporca. E allora cosa aspettate? Chiamate subito per ricevere Goisa System direttamente a casa vostra all'incredibile prezzo che vedete in sovraimpressione. Riceverete il contenitore a pressione, lo speciale tubo, la valvola per regolare il flusso di pittura, il rullo con applicato il nostro sistema di distribuzione e in omaggio alle prime 50 telefonate l'utilissima asta telescopica. Ma se dovete pitturare negli angoli o avete pareti non perfettamente lisce, chiedete ai nostri operatori telefonici come poter ricevere il comodo pennello con lo stesso sistema brevettato e due rulli, uno a pelo corto e l'altro a pelo lungo. Vedete? Il pennello ha un collettore interno che distribuisce la pittura sull'estremità delle setole e la distribuisce uniformemente negli angoli. Si utilizza proprio come un pennello da barba. Basta faticare e sporcare con il rullo tradizionale. Da oggi con Goisa System tutto sarà facile, veloce e soprattutto economico. Goisa System non è un prodotto proveniente dalla Cina, ma un prodotto garantito italiano, progettato e realizzato interamente in Italia, conforme a tutte le normative della comunità europea. Ma ora vediamo da vicino come funziona. Nella confezione troverete un contenitore a pressione di 5 litri di capienza massima, uno speciale tubo di 4 metri di lunghezza, una valvola per regolare il flusso di pittura, un rullo con applicato il nostro sistema di distribuzione e un'asta telescopica. Utilizzarlo è molto semplice. Agganciate la valvola all'estremità dell'asta, chiudete la valvola e controllate che tutto sia maneggevole. Riempite il contenitore con pittura pulita e già diluita. Chiudete il contenitore e mandate in pressione il sistema. La pressione spinge la vernice attraverso il tubo fino alla valvola. Premete ad intermittenza la maniglia della valvola, in modo che la pittura si distribuisca omogeneamente sul rullo grazie al collettore. In seguito premete la leva, caricando il rullo di pittura in base alla vostra velocità di lavoro. Visto com'è facile? Questo innovativo sistema vi offre numerosi vantaggi. Con un solo strumento, sarete in grado di tinteggiare spostandovi agilmente per tutta la casa, rendendo semplice dipingere anche i punti più difficili come il soffitto, non dovendo più utilizzare la scala. La pittura non esce dal contenitore nemmeno se viene rovesciato. Se dovete interrompere il lavoro, la pittura rimarrà inalterata nel tempo all'interno del contenitore. Il flusso costante permette di lavorare senza interruzioni e riducendo i tempi di lavoro. Il sistema, mentre distribuisce il colore, trattiene gli spruzzi creati dallo scorrere del rullo. La distribuzione della pittura è omogenea. Non ha macchie. Il contenitore, infatti, evita il contatto tra il rullo che raccoglie lo sporco lungo le pareti e la pittura fresca, impedendo alterazioni di colore e di efficacia. Così risparmierete tempo, fatica e, soprattutto, non dovrete più mettere teli e giornali per coprire mobili e pavimenti per la paura di sporcarli come con la pistola a spruzzo, perché con Goisa System si eliminano gocciolamenti e polveri di vernice. Ascoltiamo alcune testimonianze di persone che hanno acquistato Goisa System. Goisa System. Finalmente ho scoperto un modo nuovo per imbiancare in modo semplice. Prima dovevo mettere stracci, giornali, pulire gocce. Ora è tutto facilissimo. Basta il rullo di Goisa System. Pronto da rimbiancare tutte le volte che vuoi. Grazie, Goisa System. Da quando utilizzo Goisa System, il mio lavoro è migliorato. Questo sistema innovativo mi permette di migliorare il mio tempo e consumare meno vernice, però risparmio. Il sistema è molto pratico, veloce, non sgocciola. Mi permette di fare un lavoro migliore io e soddisfare migliormente i miei clienti. Goisa System, ve lo consiglio. Avete sentito? Goisa System è veramente semplice da usare, non sporca e vi fa risparmiare tempo e denaro. Non è un prodotto a spruzzo, di quelli che sprecano molta vernice non dandovi garanzie e inoltre non è elettrico. Ora vediamo come pulire Goisa System. È semplicissimo. Basta un po' d'acqua nel contenitore, mandarlo in pressione, premere la maniglia e il forte flusso di acqua eliminerà i residui di pittura. Potete così riporlo o riutilizzarlo con della pittura di altro colore. Cosa aspettate? Chiamate subito! Non perdete questa incredibile occasione! Chiamando ora, riceverete Goisa System, composto dal contenitore a pressione, lo speciale tubo, la valvola per regolare il flusso di pittura e il rullo con applicato il nostro sistema di distribuzione all'incredibile prezzo che vedete in sovraimpressione e in omaggio alle prime 50 telefonate l'utilissima asta telescopica. Ma se dovete pitturare negli angoli o avete pareti non perfettamente lisce, chiedete ai nostri operatori telefonici come poter ricevere il comodo pennello con lo stesso sistema brevettato e due rulli, uno a pelo corto e l'altro a pelo lungo. Vedete? Il pennello ha un collettore interno che distribuisce la pittura sull'estremità delle setole e la distribuisce uniformemente negli angoli. Si utilizza proprio come un pennello da barba. Goisa System è realizzato con materiali di altissima qualità, con le migliori tecnologie ed è un prodotto tutto italiano con ben due brevetti internazionali. Goisa System è un'invenzione che rende più comoda la vita, più facile e più efficiente tinteggiare e soprattutto vi farà risparmiare tempo e denaro. Basta una passata per avere risultati migliori. Sono soddisfatto io e più contenti i miei clienti. Goisa System ve lo consiglio. Chiamate subito per ricevere Goisa System direttamente a casa vostra all'incredibile prezzo che vedete in sovraimpressione. Riceverete il contenitore a pressione, lo speciale tubo, la valvola per regolare il flusso di pittura, il rullo con applicato il nostro sistema di distribuzione e in omaggio alle prime 50 telefonate l'utilissima asta telescopica. Ma se dovete pitturare negli angoli o avete pareti non perfettamente lisce, chiedete ai nostri operatori telefonici come poter ricevere il comodo pennello con lo stesso sistema brevettato e due rulli uno a pelo corto e l'altro a pelo lungo. Vedete? Il pennello ha un collettore interno che distribuisce la pittura sull'estremità delle setole e la distribuisce uniformemente negli angoli. Si utilizza proprio come un pennello da barba. Basta faticare e sporcare con il rullo tradizionale. Da oggi con Goisa System tutto sarà facile, veloce e soprattutto economico. Con Goisa System tinteggiare casa sarà un divertimento alla portata di tutti. Otterrete un ottimo risultato risparmiando tempo, fatica e denaro rispetto al sistema tradizionale. Goisa System è un prodotto che funziona e lo potrete utilizzare tutte le volte che vi necessita. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta a questo incredibile prezzo. Chiamate subito e consigliatelo agli amici!